Buongiorno, siamo su Adopt Me oggi E... Non so parlare, vabbè Oggi siamo su Adopt Me e vedremo un po' cosa mi dà la gente Beh, beh, oh Non si rincavrò, alleluia Per un robot dog ride Vedremo, vedremo Andiamo a vedere Andiamo al centro Consigliatemi se volete un giveaway Però ho pochissimi pet, quindi non posso farla con i pet nemmeno Con il Frost Fury nemmeno ci provo Perché mette subito il Frost Fury E rifiuta Vabbè, Charlie dà meglio 4, 2, 9, 9 Trading Petware Aiuto! Sta macchina io ce l'ho, aiuto, mi ha vestito Oddio Quale? E con... Chi stai parlando? Non sto capendo Quale Questo Questo Beh, sì 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 Secondo me questo è tipo uno Scammer Malemente Scammer Non te lo do Pezzo di cacca Sì Pezzo di cacca Allora niente fai E non mi interessa Che cacca Cosa mi interessa? Non mi interessa Poi me li prendo io I Robux Mi interessa Troppo meglio Troppo meglio Ma quella con il Frost Fury E' una cosa Ci provo con lo Snowwall Vabbè Ma Robodog Macchina leggendaria Ha ripetato immediatamente Sì ma qualcos'altro Mica pretendo per forza Lo Snowwall Eh Quindi Qualcos'altro No Ho la leggere Impressione Che figuità Infatti Allora non ti do la pozione Me la prendo da solo Me la prendo da solo Non me ne frega niente Non scammo No Scammer No Solo Fly La rana No 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 La mia risposta Non me ne frega niente Vattene via tizio Poi me lo faccio Fly da solo Sto Robodog Carinissimo Oh L'unicorno Ride Ho detto No Ma c'è lì da meglio Questa qua 4 2 9 9 Ma è scema Dai Accettami il train Ti prego Pat Please Non ne tengo 4 Con 4 messe in croce Non posso dartene altro Questo qua mi serve un Orphan Neon Anche se non serve un 4 Quindi me ne devo procurare Tipo subito un altro A dettaglio Bo Paolo Proprio 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 Voglio vedere un'offerta Non per forza Lo snow wall Mica ti sto chiedendo Proprio Lo snow wall Allora Cos'altro Oh Ecco la cia lì da meglio No no E' un'altra Temina Vgf No declinato Un tacchino Un tacchino Sì Un tacchino Un tacchino Voglio il tacchino Che bello E' il tacchino Il tacchino E' carinissimo Voglio certo E' bellissimo Io lo amo Il tacchino Ti prego Accetta No come and Ti ando questo Ti ando Ti ando questo Cos'altro vuoi che ti ando E perchè mi sei tolto Quello Vabbè Adapet Non tengo più pet Talpia australiana Cioè dai Il tacchino Il tacchino Dai Volevo il tacchino Why adopt me? Vabbè io ci provo A fare il trade con lei Violet vgf Che mi dai per questo? Mettere lo slot Che mi arrabbio se metti lo slot Ha messo lo slot Adapicciolo Ti prego ad un po' Ti prego ad l'adda No 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 Why adopt me? Perchè perchè mi adottate? Non lo so Vabbè Che ne dite ragazzi Se andiamo a fare una gara Magari Perchè devo prendermi uno snowman Da quanto tempo non prendo gingerbread? Uii 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 Da questa parte Uii Da questa parte Ok In suo server ci sono tutti Cose O ricchi O troppo ricchi O troppo poveri Cioè non trovo Faste per niente buone Cioè Alcuni dicono Ad per il robo dog ride Alcuni Alcuni proprio Mi mettono cose di schifo Ad esempio Prima mi ha messo una Frogfly Però La frogfly almeno è carina Però Comunque è under Ah Quanto vorrei E' stato Avere almeno un frost Yeah 160 Tachino Non ne parliamo proprio Il tachino è bellissimo Boh Tiriamo fuori Il Quale è la tua offera? Una fennec fox Alla grande Ma accetto Ma è ovvio che accetto Oddio Una peneon Una peneon Una peneon Voglio la peneon Ti supplico Voglio la peneon Voglio la peneon Voglio la peneon Ma l'arrivo io indietro Perché ce l'avevo io una volta Non ce l'ho più Perché va a far giro giro tondo Capisco che è fly Ma non fa giro giro tondo No Era scesa per un attimo No Fermati No È volato in alto Ah no Ecco Fermati E che cavolo Oh Non riesco a cliccare Oh State Fermati Ok Ok No dai Ho rifiutato immediatamente Boh Io Devo fare un po' Devo prendermi Robux Un giorno Prenderò i Robuxiani E vorrei prendermi il cialbero Oppure Il camioncino dei gelati Oddio una Swan Ma è Neon o sbaglio? Sì è Neon Che figo Ci provo Non lo so che rifiuta Perché la Swan è parecchio più raro Del Robo Dog Molto più raro Ma ci provo No 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 Cosa dici no? Boh Dai muoviti Quanto tempo stai in un trade te? Oh Direi Finalmente Oh è Neon infatti La Swan è carinissima Perché un castoro? Perché un boom? Lei non le soggiunge cose Per poi Infatti Quello cavolo che te lo dono io Quello cavolo che te lo dono Robo Dog Guarda se dici che è una good offer Perché il castoro fa davvero schifo La Banana Car La Banana Car Non mettere la Banana Car sai Trade if you have a snowman Cosa dà tipo cose di schifo Per lo snowman Cosa dà tipo cose di schifo per lo snowman Cosa dà per lo snowman? Dà della snowman devo collezionare tipo un botto velocemente Ste cose Di Lara Zerzei dimmi di Lara Zerzei Non sono io quello che volevo lo snowman Perché è una macchina? Perché una? No Co cavolo Fai schifo No Ok Adesso è una brava persona Boh c'è sul serio Ste persone Siete delle brutte persone Mi hanno cose brutte Brutte le loro cose Mi hanno cose brutte Blute Bluto C'è qualche gingerbread che non ho preso Beh ho bisogno di uno snowman Voglio vedere che mi dà la tizia Adesso con la mia pistola ragno Non posso usare mentre Sto raiando un pet È un coniglio fly o il baio? Sì È un coniglio fly È tipo bagatissima Vabbè ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video Ciao